Mo' dico io, la VAR c'è, usiamola Mettiamolo, ok, se no Torniamo ai tempi, capito? L'arbitro, come fai gli errori? Uè Paolo, ma come sei abbronzato? E questo è quello della mia pelle Vabbè, hai preso un po' di sole e ti sei scurito No, sono scurito io Cioè, sei proprio così tu? Sì E c'è la cittadinanza italiana? Sì, certo MADTEO! Ragazzi, comunque Io vi devo confessare una cosa Dici? Sono gay Ma tu non volevi mettere su famiglia? Sì, infatti Io e il mio compagno un giorno Ci vorremmo sposare E poi perché no Adotteremo dei bellissimi bambini MADTEO! Luca, ma secondo te quella barca sta partendo o sta arrivando? Sta arrivando MADTEO! Scusate Che stai ascoltando? I nomadi MADTEO! Ragazzi, allora sono 49 Vabbè, poi te li diamo Vabbè, un po' alla volta No, adesso MADTEO! O lecture Upp90 Upp90 Sì, ciao